Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Cari amici, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questo mercoledì avremo tempo stabile, seppur caratterizzato da qualche isolato temporale pomeridiano. L'alta pressione, infatti, non sarà particolarmente forte e coriacea, tanto da inibire anche lo sviluppo dei tipici temporali pomeridiani estivi. Avremo i fenomeni più concentrati nelle aree interne, sia sull'arco alpino sia lungo la catena appenninica, mentre sulle coste prevarrà il bel tempo. In Abruzzo, una mattinata stabile e soleggiata ovunque, tra pomeriggio e le primissime ore della sera, tenderanno a svilupparsi degli addensamenti nelle aree interne che sfoceranno in acquazzoni o temporali di breve durata, però localmente anche molto intensi, specie sull'Aquilano, quindi a ridosso dei monti e delle colline, qualche fenomeno sconfinirà anche sul Terramano. Il vastese, nelle aree comunque interne, degli addensamenti piuttosto sterili invece raggiungeranno le coste dove avremo quindi qualche annuvolamento, anche qualche schiarita. Le temperature saranno stazionari e un lievamento solo nei valori minimi. Grazie per essere stati con noi e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.